Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Quest'oggi parleremo del concetto di normalizzazione audio. Cos'è? Cosa vuol dire normalizzare un audio? E quando conviene normalizzare un audio? Perché non è detto che utilizzare questa funzione per aumentare o diminuire il volume della nostra traccia sia la scelta giusta. Prima di iniziare con il tutorial però vi ricordo come sempre se volete di venire a mettere un like alla mia pagina Facebook, cercatemi come FabioAmbrosi, mettete un bel like oppure se volete venite a trovarmi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i video tutorial fatti fino ad ora e chiaramente anche l'elenco delle lezioni restanti del corso di introduzione ad Adobe Premiere. Nei prossimi mesi parleremo anche di altri software After Effects lo chiedono in tanti, Audition ugualmente, Photoshop nemmeno ve lo dico quindi nei prossimi mesi in autunno ma anche un po' più in là ecco introdurremo anche altre lezioni, altri tutorial, altri corsi di introduzione a questi fantastici software Adobe. E infine se volete, se vi fa piacere, iscrivetevi anche al mio canale YouTube in modo da non perdere i prossimi tutorial. Detto questo torniamo alla lezione di oggi. Allora come anticipato parleremo della normalizzazione. Normalizzazione. Cosa vuol dire normalizzare l'audio? Normalizzare l'audio significa sostanzialmente, e qui ci aiuta Wikipedia, perché? Perché Wikipedia dice, spiega bene in questo modo, la normalizzazione audio è il processo di aumento o riduzione dell'ampiezza di un segnale audio. Di solito il processo consiste nel rendere massimo il livello di un segnale audio senza introdurre distorsione. Cosa vuol dire? Ci facciamo aiutare per comprendere questo concetto da Adobe Audition, ma solo per una questione pratica, perché in Premiere difficilmente riusciremo a vedere un'onda così chiaramente. Guardate questa forma sonora, ok? Questa forma sonora l'ho tenuta picchiettando con le dita sopra il tavolo. Niente di particolare, niente di particolarmente interessante. Però qual è lo scopo della normalizzazione? La normalizzazione vuole portare il volume di questa traccia audio il più alto possibile, il più vicino possibile allo zero. Abbiamo già detto che qualunque suono può avvicinarsi agli zero dB, ma se si supera questo muro, questo valore, la audio rischia di essere distorto. Quindi lo scopo della normalizzazione è aumentare il volume fino ad avvicinarsi il più possibile agli zero dB, chiaramente senza toccarli. Chiaramente si può anche normalizzare ad un valore più basso, possiamo normalizzare anche a meno 12 dB, per esempio, a seconda di quelle che sono le nostre necessità. Quindi, se io vado a normalizzare l'onda, chiaramente vado ad aumentare il volume a tutta questa traccia. Però fate molta attenzione. Ho fatto questo esempio non a caso, non ho preso una conversazione, ho preso questi suoni con questi picchi così diversi tra di loro non a caso. Perché? Perché cosa fa la normalizzazione? Cosa vuol dire normalizzare? Audition, in questo caso, ma il concetto vale per tutti i software che normalizzano normalmente, prende il picco più alto. In questo caso, ho fatto analizzare l'onda da questa applicazione di Adobe Audition, e il picco più alto, in questo caso, è a meno 0,93 dB e corrisponde, andandolo a vedere, a questo punto qui, ecco qua. Vedete che l'onda si avvicina in questo punto a meno 0,93 dB. Quindi questo è il punto più alto in volume dell'intera forma sonora. Cosa fa la normalizzazione? Prende questo punto di picco e lo alza in dB o lo abbassa in dB fino a portare questo picco al valore che noi gli diciamo. Quindi se noi vogliamo normalizzare l'onda a meno 12 dB, per esempio, il software abbasserà il volume di tutta questa traccia audio basandosi, prendendo come riferimento, questo picco massimo. Quindi questo picco massimo, per semplicità, diciamo che è a meno 1 dB, per portarlo a meno 12 dB dovrà abbassarlo di meno 11 dB. E chiaramente il software abbasserà il volume di tutta questa traccia di 11 dB. Facciamo un esempio. Vado ad applicare la normalizzazione in Adobe Audition, normalizzazione, labora, e diciamo che io voglio portare l'intero volume dell'intera traccia a meno 12 dB. Quindi, quando io premerò applica, cosa farà Audition? Troverà, individuerà il picco massimo di quest'onda, in questo caso quello che abbiamo appena visto, che è a meno 0,93 dB. Lo abbasserà fino a portarlo a meno 12 dB e chiaramente di conseguenza abbasserà tutto il nostro audio. Guardiamo. Ecco qua. Come potete vedere, adesso il picco massimo, che resta il picco massimo dell'intera forma sonora, è praticamente vicino ai meno 12 dB. Facciamolo rianalizzare e guardate qui. Guardate l'analisi di Audition. Ci dice che l'ampiezza di picco massimo è di meno 12 dB. Cosa è successo però? È successo che chiaramente la diminuzione del volume ha coinvolto l'intera traccia, quindi tutto il resto è stato abbassato di conseguenza. Quindi questa era la situazione di prima e chiaramente è una situazione limite, però può capitare in un audio di avere dei picchi così forti. Quindi pensate ad una persona che ha un colpo di tosse durante una conversazione. Ecco, quello può essere un picco. Normalizzare in quei casi non è detto che vada al nostro vantaggio. Perché cosa vogliamo fare noi? Che cosa può essere utile normalizzare? Facciamo un esempio. Cancelliamo questo suono e registriamo qualche secondo di conversazione senza picchi eccessivi. Questa è una prova di registrazione senza picchi eccessivi. Come potete vedere l'onda che si sta costruendo non ha dei picchi particolarmente alti. Ok, questa è la registrazione che abbiamo appena fatto. Eliminiamo il pezzo iniziale e teniamoci questo blocchettino qui. Questa è una prova di registrazione? Esatto, eccetera, eccetera. Normalizzare l'audio in questo caso e alzarlo magari per avvicinarlo allo zero può essere fatto senza particolari problemi perché normalizzare in questo caso significa prendere il picco massimo che ad occhio sembra essere questo e portarlo per esempio a meno 0,5 decibel. Applicando in questo caso la normalizzazione vedete che il picco massimo è a meno 0,5 decibel ma ne trova chiaramente giovamento l'intera traccia perché tutto viene alzato significativamente. Questa è una prova di registrazione senza picchi eccessivi. Quindi come potete vedere normalizzare può essere un buon modo per aumentare il volume di tutta una traccia audio portandolo ad un valore prestabilito tendenzialmente a patto chiaramente che non esistano dei picchi eccessivamente grandi nella nostra traccia. Altrimenti come abbiamo visto nell'esempio precedente rischiamo sì di aumentare o abbassare il volume dell'intera traccia però per esempio facciamo un esempio io in questo picco l'audio era a meno 0,93 se io questa traccia la andassi a normalizzare a fai conto meno 0,5 perché voglio portare l'intero audio ad un valore di meno 0,5 eccolo l'audition l'ha fatto il valore massimo è intorno ai meno 0,5 decibel ma come potete vedere in questo caso l'intera traccia non ne ha trovato particolarmente beneficio quindi sostanzialmente normalizzare l'audio è un buon metodo per aumentare o diminuire il volume di una traccia audio portandolo a tendere ad un valore prestabilito purché chiaramente non esistano dei picchi particolarmente significativi come in questo caso nel caso di una conversazione come abbiamo visto prima chiaramente normalizzare può essere un buon modo a questo punto sorge una domanda che molti si faranno come è possibile omogenizzare l'audio che poi è lo scopo spesso di chiunque vuole migliorare l'audio delle proprie produzioni video ecco esistono chiaramente altri strumenti che ci aiutano a controllare la dinamica si dice in questi casi del nostro audio lo vedremo nella prossima lezione quando parleremo per esempio del compressore il compressore è un ottimo strumento che ci aiuta ad aumentare o diminuire il suono di un'intera traccia audio il volume di un'intera traccia audio a prescindere dai picchi che esistono o che non esistono la normalizzazione va quindi abolita completamente? no, assolutamente no a volte può essere anzi molto molto utile normalizzare perché ci aiuta ad aumentare il volume o a diminuirlo con un click senza troppi problemi l'unica accortezza che occorre fare è controllare che non esistano dei picchi eccessivamente grandi all'interno della forma sonora nella prossima lezione come detto parleremo del compressore mi perdonino gli esperti di audio mi perdonino ovviamente gli ingegneri che questi ingegneri del suono che di questi argomenti chiaramente ne sanno molto più di me sto semplificando molto per permettere a chi non ha mai non si è mai avvicinato a questi concetti di comprendere chiaramente c'è molto da dire è online se cercate bene esistono dei tutorial specializzati specializzati proprio in questi argomenti che vi apriranno un intero universo quindi dicevo nel prossimo capitolo parleremo del compressore audio anche qui un'infarinatura rapidissima per capire che cosa fa un compressore audio e in quali casi può essere di aiuto ad un montatore video e poi chiaramente nelle lezioni ancora avanti vedremo come applicare questi concetti ad Adobe Premiere www.fabbiambrosi.it il sito per l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora di tutte le lezioni di questo corso e se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale per non perdere i prossimi tutorial grazie mille ancora una volta grazie a chi mi scrive a chi commenta a chi fa domande continuate così grazie alla prossima ciao